Tecnicamente l'emergenza sanitaria termina il 30 giugno, ma da qualche settimana la pressione è diminuita, non solo sugli ospedali, ma anche sulla macchina della protezione civile. Un sistema che ha organizzato la distribuzione di migliaia di mascherine, coordinato l'attività di centinaia di volontari e dato innumerevole informazioni ai cittadini. Il nostro è un lavoro che si è assestato fondamentalmente su tre linee. La prima è una linea puramente logistica, quindi acquisizione e distribuzione di prodotti necessari per questo tipo di emergenza. La seconda è una linea di coordinamento fra tutte le varie istituzioni che hanno collaborato e che stanno collaborando costantemente alla gestione dell'emergenza Covid. E la terza, per ultima, ma non ultima, è cercare di dare il massimo delle informazioni possibili e quanto più corrette possibili alla cittadinanza che ci richiedeva. Perno di tutto è stata la logistica, con la distribuzione delle mascherine. Attività ancora in corso. Ci vengono fornite in più volte, con numeri decisamente inferiori, e che purtroppo ci ha costretto, purtroppo meno male, a mettere in campo tutte le mascherine che comunque il Comune di Prato aveva ricevuto in donazione da diverse istituzioni, tutte ovviamente a livello comunitario o estracomunitario, ma a livello istituzionale. Per cui abbiamo messo in campo di tutto, speriamo ancora in forniture da parte della Regione. Ma tra i servizi fatti, anche alcuni molto particolari. Di Sicilia, gente della Lombardia, persone della Liguria, ci hanno chiamato per sapere qual era la realtà territoriale teplatese, cioè toscana, in cui sarebbero dovuti venire e se avessero potuto farlo. Siamo stati coinvolti nella distribuzione di materiale didattico dalla scuola agli alunni.